Ora la mia patria sono le valli, quindi nella fortezza che verrà ricostruita tutti i popoli avranno un posto, tutti i popoli potranno combattere in prima fila le nebbie. Mai un'occasione come questa si è rappresentata dal momento della carica della torre. So che non tutti ci credono, ma la torre è veramente istruita. Quello che mi auguro è che come un tempo di cui la terra torni per me a stare lì e sia quello il suo posto. Quindi volevo dirvi che questa è la nottoria di tutte le valli. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.